Scambio culturale per i ragazzi del liceo Alfonso Gatto con una delegazione di ragazzi tedeschi oggi presenti proprio nell'auditorium dell'istituto per ricordare il trenternale dalla caduta del muro di Berlino. Io ho avuto l'impressione che già da subito ci sia stata grande simpatia tra di loro, poi abbiamo trascorso la giornata insieme, abbiamo visitato Vietri, Salerno, loro hanno pranzato insieme per fatti propri, con le due colleghe tedesche e poi sono stati accolti nelle famiglie. Chiedo tutti i giorni, mando messaggi continuamente sul gruppo, sono contenti, soddisfatti, imparano l'uno dall'altro, i genitori sembrano tutti molto contenti, quindi è una bellissima esperienza che noi ripetiamo per la seconda volta a quest'anno e c'è stata in passato anche. Oggi abbiamo il piacere e l'onore anche di avere il dirigente e una professoressa qui con noi, ecco come trovano questa iniziativa e come trovano la città di Agropoli? Allora loro piace tantissimo Agropoli, piace molto anche ai ragazzi, sono molto entusiasti dell'accoglienza che ricevono perché veramente ovunque vanno li salutano, anche all'interno dell'istituto devo dire la verità, anche loro partecipano con grande entusiasmo, salutano volentieri, si presentano, è un'esperienza che a loro piace moltissimo. A maggio anche i ragazzi della città di Agropoli faranno visita da voi, ecco qual è il programma che mostrerete ai ragazzi agropolesi? Noi saremo accolti, la zona in cui andremo è una zona tutta di pianura, non ci sono montagne, quindi poi noi arriveremo ad Amsterdam con un volo ad Amsterdam che è più vicino a loro, ci accoglieranno ad Amsterdam, faremo un giro ad Amsterdam, andiamo a visitare la casa di Anne Frank e dopodiché faremo i giri anche nelle loro città. Noi entreremo nelle classi perché i nostri ragazzi studiano il tedesco, quindi è anche opportuno che facciano esperienza nelle aule. Insomma, quello che piace molto ai nostri ragazzi è, dico la verità, perché lì ci si muove in bicicletta e i ragazzi ospitati verranno a scuola con le biciclette e a loro è piaciuto moltissimo tutto questo. Ieri c'è stato un giro turistico in alcuni punti culturali della nostra città, che cosa ne pensano i ragazzi? Allora, a loro è piaciuto moltissimo, anche perché veramente l'ambiente, cioè la natura è completamente diversa da quella che hanno loro innanzitutto. Il loro, il mare ce l'hanno, ce l'hanno al nord, però non è il mare nostro e anche le caratteristiche della nostra città, insomma, un po' più medievale. Abbiamo poi questo castello bellissimo che a loro è piaciuto molto, la guida è stata molto brava a presentarcela. Sono tutti molto entusiasti, vorrebbero andare a mare. È un'esperienza che in effetti è nata nel 2012 e che porteremo avanti sempre con lo stesso impegno ed entusiasmo, perché rappresenta sicuramente un'opportunità formativa per i nostri studenti, per conoscere nuove culture, per confrontarsi con nuove culture ed arricchirsi vicendevolmente. Inoltre oggi commemoriamo un giorno importante che è il giorno della libertà, ovvero il ricordo dell'abbattimento 30 anni fa del muro di Berlino. Il messaggio che oggi vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi è questo, cioè il muro rappresenta simbolicamente tutti i muri che purtroppo oggi noi riusciamo ad innalzare tra esseri umani, che sono appunto il muro dell'arroganza, dell'egoismo, della prevaricazione, anche dell'ignoranza intesa come non conoscenza o come pregiudizio. E quello che vogliamo dire loro è questo, cioè possiamo abbattere i muri quando riusciamo a passare dalla dimensione dell'io alla dimensione del noi. Quando riusciamo ad indagare e a scoprire quelli che sono i nostri limiti e a maturare la consapevolezza che solo insieme con gli altri possiamo metterci in una dimensione dialogica di scambio, di ascolto, di comunicazione per condividere appunto quelle che sono opinioni, idee diverse e per condividere soprattutto progetti ed obiettivi. Quindi il messaggio è questo, cioè cerchiamo di andare oltre il confine personale della nostra esistenza e di guardare l'altro come una ricchezza. E per me oggi più che mai abbattere un muro significa riuscire a stabilire relazioni umane che siano autentiche e soprattutto prendersene cura. Grazie. 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 Grazie.